Dopo una domenica di break il massimo campionato regionale si lancia verso il rush finale con il Sora, già certo del salto di categoria da quasi due mesi, resta da dirimere. La questione secondo posto ai neroverdi di lusso, manca solo l'ultimo sforzo per festeggiare un traguardo che sarebbe incredibile. Un successo stamattina farebbe saltare i tappi e regalerebbe a Ferri e compagni la pro dei play-off. L'ostacolo odierno sono i tigrotti di Pernarella già matematicamente salvi ma vogliosi, come è giusto che sia, di onorare fino alla fine il proprio campionato. Benvenuti a Centocelle amici di Sport in Oro, Certosa-Terracina vale per la penultima giornata del girone B di eccellenza. Un saluto da Andrea Dirix e da Cristian Grossi. Spazia il pallone profondo, lo recupera Sessa Fanny Zassas che poi sbaglia però, attenzione al Certosa che prova a sfondare da destra. Dentro Jukic di Achite, subito chiamato all'intervento. Arriva in avanti anche Camerà, trova un buon corridoio per Proietti, dai 30 calcio Marini in due, anzi in tre tempi la fa sua. Trova Dovidio che pensa al cross, eccolo che parte, la deviazione col pallone tra le braccia di Diachite, ci ha provato Capitan Ferri. Gli altri tutti in area, angolo battuto corto, duettano i due, si accentra Dovidio col mancino, il pallone sull'esterno della rete. Parte il corner del buco, c'è la deviazione di Camerà, arriva al limite Ferri che prova a calciare ma il pallone è largo anche in questo caso. L'apertura sulla sinistra, c'è Dovidio che si accentra, il destro non è il suo piede ma ci prova lo stesso e Diachite la branca. Può sfidare a Tiagli, lo guarda, poi va sul destro, effettua un grande cross sul secondo palo, Ferri si coordina, ancora Ferri, Ferri ancora, Ferri! Il pallone sfiora il palo, termina fuori, grande azione del Certosa. Fioretti che punta la porta, Fioretti finisce a terra, steso e qui scatta il rosso, inevitabile per Dovidio, atterrato al limite dell'area. Giordano Fioretti si complica maledettamente la partita del Certosa. Qui però intanto occhio alla Certosa, suggerimento geniale di Diachite, monumentale su Colasanti. Colasanti cerca la soluzione il Certosa, le trova con il suo capitano, grande giocata, entra in area, scarica all'indietro, Colasanti di Diachite, Rete! Rete! Il Certosa è passato in vantaggio con Colasanti, con Colasanti! Al ventisettesimo, cambia l'inerzia del match, il Certosa sblocca il risultato e passa in vantaggio. È finita, accetto celle, finisce così, finisce 1-0. Il Certosa conquista la sua ventesima vittoria di un campionato straordinario, ma soprattutto scrive la sua storia e c'entra per la prima volta in assoluto i play-off nazionali. Si abbracciano i giocatori in maglia nero-verde, fair play con quelli del Terracina. Anche il Terracina è stata autrice di una grande stagione. Si abbracciano anche Pernarella e Russo. Il Certosa sarà la rappresentante del girone billassiale nei play-off nazionali contro una rappresentante marchigiana. Grandissima stagione dei nero-verdi. Applausi per tutti, un traguardo meritatissimo per quanto prodotto nel corso dell'intera stagione.